Si è conclusa ieri la prima edizione di Garda Wind Garda, la manifestazione dedicata al vento che per quattro giorni ha colorato la città di Riva. Il motto Color the Wind dell'evento è infatti stato rispettato in ogni sua forma, con approfondimenti culturali e musica, con Eno Gastronomia del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, con spettacoli e con la tecnologia di In Vento, con le regate One Hour Classic e il Trofeo Quattro Laghi, sino alla prima edizione della Riva Lora. In una spianida giornata di sole, infatti, con l'ora che non si è fatta desiderare, ben 72 barche si sono allineate sulla linea di partenza davanti a Riva del Garda, ambasciatore del ritorno della vela d'altura sull'Alto Garda. La prima edizione di Riva Lora registra un successo di iscrizioni, a conferma di quanto auspicato da Riva del Garda a Fieri Congressi Spa e Barcolana SRL. Il campo di regata è stato il palcoscenico perfetto per mantenere la promessa che Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento, e Deborah Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, hanno lanciato settimane fa. Hanno infatti presenziato alla Riva Lora a bordo dell'Extreme 40 e in diretta video con il Garda Wind Garda Village. Hanno entrambe sottolineato l'importanza della collaborazione per la riuscita di questo evento e per la promozione del vento come risorsa sportiva e culturale, dandosi appuntamento alla prossima Barcolana l'8 ottobre a Trieste. La vela d'altura è tornata sull'Alto Garda e Garda Wind Garda da già appuntamento a giugno 2018.